Abbiamo testato 8 tastiere wireless per diversi giorni, e in questo video vi mostreremo quelle che secondo noi offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Se siete interessati ad alcuni modelli, abbiamo incluso i relativi link in fondo al video. Top 4 Logitech Cat Trenton 80 Disponibile in diversi colori, questa mini tastiera da ufficio ha 80 tasti piatti, la maggior parte dei quali sono arrotondati per adattarsi alla forma delle dita, per un'esperienza di digitazione più fluida e confortevole. La sensazione è simile a quella di un computer portatile, ed è abbastanza silenziosa. Durante i nostri test, abbiamo commesso il minor numero di errori di battitura. L'abbiamo trovato anche abbastanza veloce, con una media di 60 parole al minuto. In termini di layout, dispone di tasti multimediali e 12 tasti FN. Tuttavia, non è presente un tastierino numerico o una retroilluminazione e, a nostro avviso, alcuni tasti presentano un numero eccessivo di simboli. Per le opzioni di personalizzazione, è possibile utilizzare Logi Options, un software semplice e intuitivo. Una delle caratteristiche principali di questa tastiera wireless è la sua forma compatta e leggera, che la rende adatta a spazi ridotti e zaini. Date le dimensioni ridotte, sono state fatte alcune concessioni in termini di comfort. Non ci sono poggiapolsi o piedini pieghevoli per variare l'angolazione della tastiera, anche se di serie è leggermente inclinata. I quattro piedini in gomma garantiscono comunque una buona stabilità, mentre l'assenza di cavi sulla scrivania offre una maggiore libertà di movimento. Questa tastiera wireless dispone di una connessione Bluetooth con una portata di 10 metri. Quando l'abbiamo utilizzata, non abbiamo riscontrato alcun problema di latenza. La connessione multipoint consente di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente e di passare rapidamente da uno all'altro grazie al pulsante Easy Switch. Inoltre, la tastiera è compatibile con molti sistemi operativi. Il K380 funziona con due batterie AAA incluse e ha un'autonomia fino a due anni. Top 3. Logitech MK295 Silent Questa tastiera wireless a membrana è progettata per l'uso in ufficio e vanta un layout completo con 112 tasti piatti, un tastierino numerico e 8 pratici tasti di scelta rapida. È dotata anche di un mouse. La sua particolarità è la tecnologia Silent Touch, che secondo il marchio offre una riduzione del 90% del rumore. Nei nostri test abbiamo riscontrato che i tasti e il mouse sono ultra silenziosi, il che è ottimo per lavorare in uno spazio aperto senza disturbare i colleghi. Il layout e la sensibilità dei tasti rendono l'esperienza di digitazione fluida e piacevole. Durante i nostri test abbiamo commesso pochissimi errori di battitura, ma siamo stati un po' più lenti rispetto ad altri modelli. 51 parole al minuto. La tastiera ha una portata di 10 metri e non abbiamo riscontrato alcuna latenza durante i nostri test. Inoltre, l'altezza della tastiera può essere regolata grazie ai due piedini pieghevoli. La stabilità è ancora migliore con questa configurazione, soprattutto perché sono presenti 6 piedini in gomma. Tuttavia, non è presente il poggiapolsi né la retroilluminazione. Alimentata da due batterie AA in dotazione, questa tastiera dura fino a 36 mesi prima di dover essere ricaricata, mentre il mouse ha una durata di 18 mesi, il che lo rende un modello duraturo. Inoltre, il pulsante di accensione, spegnimento, aiuta a conservare le batterie. In termini di connettività, il dispositivo si collega rapidamente e facilmente grazie al ricevitore USB in dotazione. Lo abbiamo utilizzato sia con un Chromebook che con un MacBook. Top 2 Razer Pro Type Ultra. Questa eccellente tastiera meccanica è caratterizzata dallo switch giallo Razer. È dotata di tasti veloci e lineari, adatti sia all'uso professionale in ufficio che ai videogiochi. Secondo il marchio, la tastiera ha una durata di 80 milioni di pressioni, che è elevata. Nei nostri test, abbiamo raggiunto una media di 56 parole al minuto, con una precisione del 98%. Abbiamo commesso pochissimi errori, grazie al layout generale e alla sensibilità dei tasti, che offrono un eccellente comfort di digitazione. Include anche un tastierino numerico. Più rumorosa delle tastiere a membrana, offre un suono di click soddisfacente per i dattilografi, ma potrebbe disturbare i colleghi d'ufficio. La tastiera viene fornita con il software Razer Synapse 3, abbastanza completo e facile da usare. È possibile rimappare, registrare macro, configurare scorciatoie e funzioni, regolare l'illuminazione, salvare profili e altro ancora. Tuttavia, questo software è disponibile solo per Windows. Il comfort è notevole, soprattutto grazie al poggiapolsi imbottito e indipendente. I piedini pieghevoli consentono inoltre di inclinare la tastiera a diversi livelli. Inoltre, la retroilluminazione a LED bianca è pratica per i luoghi bui. È un peccato che non sia possibile cambiare il colore e che alcune schermate non siano illuminate. Date le sue dimensioni, occupa un po' di spazio sulla scrivania, ma la sua stabilità è garantita dai sei piedini in gomma e dal peso di uno a chilo. La tastiera offre tre opzioni di connessione. Un dongle USB, che può essere riposto sotto la tastiera. Un lungo cavo USB-C e il Bluetooth. Grazie alla connessione multipoint, può essere accoppiata con fino a quattro dispositivi contemporaneamente, dimostrando la sua eccellente connettività. Durante i nostri test non abbiamo riscontrato alcuna latenza. Top 1. Logitech MX Keys S. Questa tastiera è dotata di una retroilluminazione bianca intelligente, che si accende quando le mani sono vicine e si attenua a seconda dell'ambiente. I 109 tasti sono morbidissimi e leggermente dentellati per adattarsi alla forma delle dita. Abbiamo apprezzato l'eccellente comfort di digitazione. La sensazione al tatto è piacevole e la silenziosità è discreta. Inoltre, dispone di un tastierino numerico. Durante i nostri test abbiamo commesso pochissimi errori di battitura e abbiamo digitato rapidamente senza latenza. Tuttavia, a nostro avviso, alcuni tasti presentano un numero eccessivo di simboli. Il software Logi Options Plus consente di programmare facilmente alcuni tasti, automatizzare le attività, creare macro e così via. Tutte queste opzioni sono utili per il lavoro, ma non sono sufficienti per il gioco. Si noti che questo software è compatibile con diversi sistemi operativi, ma per utilizzarlo con un Mac è necessario un modello specifico. Questa tastiera sottile e leggermente angolata vanta un'eccellente qualità del design, ma l'inclinazione non è regolabile. Tuttavia, il suo funzionamento wireless offre un'ampia libertà di movimento. Inoltre, i sei piedini in gomma e il peso moderato di 810 grammi garantiscono una buona stabilità durante l'uso. Per quanto riguarda l'autonomia della batteria, dura fino a 5 mesi senza retroilluminazione e solo 10 giorni con la retroilluminazione. Il cavo USB-C consente di ricaricarlo rapidamente e il pulsante di accensione-spegnimento è utile per preservare la batteria. Questo modello può essere collegato tramite Bluetooth o USB. È dotato di una connessione multipoint che consente di accoppiarlo con un massimo di tre dispositivi contemporaneamente e durante i nostri test siamo passati facilmente da un dispositivo all'altro utilizzando il pulsante Easy Switch. Con questo si conclude la nostra selezione delle migliori tastiere wireless in circolazione.